...i bambini, ragazzi su questo campo che finalmente ritrova un'altra volta una sua giusta collocazione. ...e ci affidiamo a Marino, che non... ...del ricordo di Matteo a questi eventi, a queste manifestazioni. E ti consegniamo questa targa per dirci che tutti quanti noi ricordiamo sempre Matteo. Auguro e mi raccomando, facciamoci fuori. Grazie. 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 Grazie.